La Fetisso qua per Cavalier Royal, commette due errori in questo secondo percorso e questi due errori la portano un po' indietro. Giorgia Bocchetti è la prossima, meraviglia delle schiave, italiana da caso blanco per un rame. Quattro, le penalità con le quali parte in questo ultimo percorso di criterio di scegliere grazie a tutti grazie a tutti